Nuove regole di accesso al presidio ospedaliero Sant'Elia. Gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso non potranno sostare nella sala d'attesa. Nel caso di minori soggetti diversamente abili sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore. Stop alle visite nei reparti ai pazienti ricoverati. Gli assistenti dovranno restare per tutto il tempo dell'adegenza all'interno della struttura e proprio a loro sarà effettuato anche un tampone. Il tampone sarà effettuato anche ai ricoveri di urgenza e in attesa del risultato i pazienti saranno trattenuti in un'area prosita prima di essere inviati all'unità operativa. Per coloro i quali hanno un intervento già prefissato, per i 15 giorni prima di recarsi in ospedale dovranno ridurre al minimo i contatti sociali e restare in isolamento domiciliare. Se dovesse essere positivo il tampone che verrà effettuato a tutti i pazienti che arriveranno per altre patologie, verrà modificato il percorso di cura. Obbligatorio ovviamente l'uso delle mascherine, vietato l'uso delle mascherine con valvole.